ciao a tutti questa sera ho scaricato macOS Ventura e adesso voglio provare aprire tutte le versioni di logic pro x e logic pro che ho installate dal momento che per esigenze lavorative ho bisogno di lavorare con più versioni di logic di main stage e anche di garage band dal momento che quando quando insegno non so mai di preciso qual è la versione che trovo installata nelle varie istituti allora partiamo dalla dall'ultima release che la 10.7.4 se faccio doppio clic direi che mi si apre senza problemi e la velocità mi sembra esattamente quella di prima quindi new front template anti project e va bene e siamo alla 10.7.4 partiamo dalla primissima versione che quella che ho perlomeno io ho installato qua che la 10.2.4 che di qualche anno fa nel 2016 vediamo un po aprirsi sembra che si apra ok vediamo se riesco a far partire un progetto in questo caso qua sembra che ci siano dei problemi provo a avviarlo premendo control cosicché io evito di far partire le audio driver e vediamo se potrebbe essere una problematica no sembra che la 10.2.4 abbia dei problemi troviamo la 10.3.2 la 10.3.2 qua sembra che si sia aperta anche qua sembra che ci siano dei problemi che poi dovrò approfondire facciamo la 10.4.4 idem la 10.4.8 fino a qua me l'ha aperta vediamo se mi la fa aprire un progetto nuovo 10.4.8 sembra che ci siamo sembra che ci siamo andiamo nel menu file new front template demo project back ok la 10.4.8 sembra che non abbia dei problemi va bene andiamo avanti con la 10.5.1 la 10.5.1 sembra che non abbia problemi e non ha problemi neanche lei benissimo quindi se andiamo nel front template in questo caso dovremmo trovarci la nostra billy eilish che però in questo caso quando dovrei scaricare e ok adesso andiamo a vedere la 10.6.3 scusate la ventola del computer che va a manetta per il doppio monitor io non ho un m1 un macbook pro i9 16 pollici quindi un intel nella 10.6.6.3 sembra non aver problemi anche lei perfetto vediamo se qua è un project anche qua sembra che non ci sia il mio progetto di billy eilish quando in realtà io sono sicuro di averlo andiamo sulla 10.7.2 è danneggiato dovresti spostarlo nel cestino vabbè lo farò poi e ritorniamo alla 10.7.4 che è l'ultima release new front template demo project ed ecco che ho i progetti di montero che si aprono senza problemi adesso una prova che vorrei fare è accendere la mia buona vecchia interfaccia audio della moto 1828 mk3 adesso la accendo vediamo se il mac la riconosce vediamo subito allora ho staccato la spina vediamo un po se mi si accende la la moto speriamo di sì perché sennò mi dispiacerebbe non doverla usare più vediamo un po se accende o meno il suo piccolo display al momento no ma mi sembra che ci sia un problema di di prese quindi questa me la provo e me la provo dopo vediamo se mi funziona main stage 3.4.4 in stage 3.4.4 sembra di sì di conseguenza do per scontato che mi funzioni anche main stage 3.5.3 e anche l'ultimo che è main stage 3.6.1 perfetto proviamo garage band garage band 10.4.5 che la versione precedente all'ultima e mi si è aperto correttamente quindi do per scontato che funzioni anche correttamente l'ultimissima di garage band vediamo un po che è la 10.4.6 e non ci sono problemi neanche qua adesso riapro l'ultima versione di logic voglio vedere dei plugin vediamo che non ci siano dei problemi con con i plugin molto importanti per me ad esempio andiamo aprire silent soft instrument di terze parti silent sembra funzionare senza problemi andiamo a vedere spire e spire si apre andiamo a vedere isotope rx rx è disconnesso ma come audio unit vediamo un po cosa succede qua e mi sembra che tutto abbia quello che deve avere andiamo a vedere andiamo a vedere un attivino strumento a caso se si aprono tutti allora qualcosa che abbia sicuramente comprato ecco massive ecco massive x ok massive x è aperto andiamo a vedere qualcosa della waves perfetto direi che tutto quello che che mi serviva provare subito mi sta funzionando andiamo a vedere isotope rx 10 che io utilizzo quotidianamente per le mie post produzioni e qua si sta aprendo senza problemi direi che riprovo la 10.2.4 perché magari adesso funziona mi piacerebbe mi dispiacerebbe perderla a 10.2.4 perché comunque è la versione storica a cui sono affezionato niente probabilmente l'abbiamo persa mentre con montarei funzionava ancora e nella 10.4.8 già non abbiamo più se non sbaglio il se ricordo bene il xs 24 ma abbiamo già il sampler no no abbiamo ancora l'xs 24 bene 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 così se vogliamo ancora spipolare con l'xs 24 lo possiamo fare comunque la 10.4.8 e la 10.4.8 anche questa è diventata obsoleta ahimè e quindi niente come primo overview direi che ci siamo cioè dalla 10.4.8 in poi funziona tutto e per il resto è tutto da provare vediamo un po' giusto giusto per se l'mms funziona ancora l'mms non molla mai funziona ancora anche la versione vecchia sono molto contento vabbè dopo scontato che word excel e tutto il resto funzioni come debba funzionare grazie per avermi seguito anche oggi seguitemi mettete un like al mio canale e ci vediamo presto buona serata ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti